Da Vodafone vorrei sapere qual è lo stato dell'arte ora. Grazie anche da parte mia per l'invito. Innanzitutto proviamo a definire digitalizzazione. Digitalizzazione è trasformare processi e procedure analogiche e supportarli con della tecnologia. Questo per permettere alle aziende di diventare più efficaci e più efficienti nel loro modo di fare le cose. È chiaro che per fare questo tipo di trasformazione innanzitutto la tecnologia deve essere accessibile. Quindi la connettività fra cose, oggetti e ambienti diventa uno snodo fondamentale. Cosa fa Vodafone? Vodafone costruisce su quello che è l'asset principale, la rete mobile o la rete fissa, delle soluzioni in grado effettivamente di aiutare le aziende in Italia, dalle piccole aziende alle grandi istituzioni della pubblica amministrazione, a percorrere questo percorso di trasformazione. E lo facciamo attraverso il grande sviluppo dell'Internet of Things che connette milioni di oggetti e trasforma un po' un'economia che prima era reattiva a un'economia predittiva. Cosa vuol dire trasformare il modo di lavorare delle aziende con una predittività? Vuol dire cercare di ottenere tantissime informazioni da tutti gli oggetti connessi, elaborare queste informazioni e cercare di migliorare, cercare di migliorare la customer experience, se parliamo della digitalizzazione dell'esperienza nel mondo del retail, cercare di migliorare l'utilizzo di determinati prodotti quando parliamo di connettere determinati prodotti, ma anche migliorare le scelte delle aziende. Prima abbiamo parlato delle scelte di tante nostre aziende di andare verso una mobilità elettrificata. Ecco, Vodafone attraverso degli assessment riesce, quindi attraverso l'elaborazione dei dati, riesce a supportare le aziende nella scelta di questo tipo di passaggio attraverso la capacità di, elaborando i percorsi, elaborando uno storico, di capire se effettivamente la mobilità elettrificata è qualcosa che porta del beneficio. Ma allo stesso livello, diciamo, visto che la mobilità elettrificata ha bisogno di tanta energia, anche quelle che noi chiamiamo le smart grid, quindi le reti elettriche sensorizzate, ci permettono in qualche maniera, permettono alle aziende che le gestiscono, di raccogliere l'informazione su quella che è la produzione e l'utilizzo dell'energia e cercare proprio di efficientare questo tipo di utilizzo stesso. Anche attraverso sistemi di energy data management e quindi attraverso l'applicazione di sensoristiche a ogni tipo di contatori, da quelli energetici a quelli dell'acqua, che altro, riusciamo in qualche maniera a migliorare innanzitutto l'impatto ambientale, quindi riducendo il consumo di energia elettrica, ma allo stesso tempo evitando gli sprechi, gli sprechi di acqua, riducendo l'utilizzo del gas. Sono percorsi, sono un'innovazione che deve andare di pari passo, l'introduzione di questa innovazione deve andare di pari passo con l'evoluzione delle organizzazioni e la necessità anche di avere all'interno delle organizzazioni personale, qualificato, persone schillate, in grado effettivamente di poter azionare tutta questa informazione che gli oggetti connessi ritornano all'azienda stessa.